Perché non riesco a snellire nella pancia e nei fianchi? Perché non riesco a ridurre il grasso addominale? Oggi vedremo come superare la comune sfida e frustrazione legate a non riuscire a ridurre il grasso accumulatosi nell'addome, nei fianchi e per le donne anche nelle cosce e nelle natiche o glutei, per capirci. Analizzeremo perciò il ruolo di una sostanza chimica prodotta dal nostro stesso corpo che potrebbe ostacolarne quindi l'eliminazione. Hai mai sentito parlare dell'ormone dello stress associato al grasso addominale? In questo video vedremo le strategie efficaci per gestirlo al meglio così da riuscire ad ottenere una zona addominale e del basso corpo più snella, più tonificata e più sana. Vedremo inoltre come riequilibrare i fattori chiave coinvolti per contrastare quindi gli effetti negativi di questo ormone sul nostro corpo. Rilassati ora perché durante i prossimi 7 minuti otterrai le informazioni delle quali hai assolutamente bisogno per risolvere il tuo problema una volta per tutte. Il cortisolo Ormone dello stress Il cortisolo è un ormone steroideo prodotto dalle ghiandole surrenali in risposta allo stress. Sebbene sia necessario per la vita, livelli elevati e costanti di cortisolo possono avere effetti negativi come discusso nel video Come fare a ridurre il grasso addominale parte 2. Il cortisolo può influenzare la produzione di testosterone e estrogeno contribuendo quindi all'accumulo di grasso addominale negli uomini in maggioranza e nelle donne anche sulle cosce e nei glutei. Ecco i principali meccanismi. Inibizione della produzione di testosterone uomo Livelli elevati di cortisolo nel sangue possono sopprimere la produzione di testosterone nei testicoli degli uomini attraverso le diverse modalità che sto per spiegarti. Poiché il testosterone aiuta a regolare il metabolismo e la distribuzione quindi del grasso corporeo la sua riduzione può contribuire all'accumulo di grasso, compreso quello addominale. Inibizione dell'asse ipotalamo-ipofisi gonadi Il cortisolo può inibire l'asse ipotalamo-ipofisi gonadi il quale è responsabile della regolazione della produzione di testosterone. Il ipotalamo gestisce il fattore di rilascio della gonadotropine che stimolano l'ipofisi a produrre l'ormone luteinizzante e l'ormone follicolo stimolante. Questi ormoni stimolano i testicoli a produrre testosterone. Tuttavia i livelli elevati di cortisolo possono interferire su questo processo riducendo quindi la produzione di gonadotropine e dell'ormone luteinizzante e di conseguenza la produzione di testosterone. Inibizione della produzione di estrogeno Nelle donne l'aumento del grasso addominale può innescare un circolo vizioso. Ad esempio, un aumento del tessuto adiposo può portare a una maggiore produzione di estrogeni influenzando negativamente l'equilibrio ormonale complessivo del corpo. Questo equilibrio o squilibrio ormonale a sua volta contribuisce all'accumulo di ulteriore grasso addominale, problemi emotivi come malumore, sbalzi d'umore e irrequietezza che possono portare a mangiare di più. Rompere quindi questo circolo vizioso può essere difficile. Concentrandoti sulla riduzione del grasso corporeo e sull'equilibrio degli ormoni potrai migliorare la tua salute generale e ridurre quindi il rischio di malattie legate al grasso addominale o viscerale e agli squilibri ormonali. Menopausa La menopausa è un periodo di transizione nella vita di una donna nella quale si verifica la cessazione definitiva del ciclo mestruale e della fertilità. Durante la menopausa ci sono cambiamenti significativi nei livelli quindi ormonali, in particolare una diminuzione quindi degli estrogeni. Questo cambiamento ormonale può influenzare il metabolismo e la distribuzione del grasso corporeo. Molte donne durante la menopausa possono notare un aumento del grasso addominale e nella parte bassa del corpo, anche se non tutte le donne sperimentano lo stesso grado di aumento. Ci sono diversi fattori che possono contribuire all'aumento del grasso addominale durante la menopausa. Questi sono i fattori causativi. Cambiamenti ormonali La diminuzione degli estrogeni durante la menopausa può influenzare il metabolismo e la distribuzione quindi del grasso corporeo, con un maggiore accumulo di grasso nella regione addominale e nei fianchi e forse anche nelle cosce e nei glutei. Cambiamenti nel metabolismo Durante la menopausa il metabolismo tende a rallentare il che può rendere più difficile per le donne mantenere un peso corporeo ideale e prevenire quindi l'accumulo di grasso addominale. Cambiamenti nello stile di vita La menopausa può essere associata a cambiamenti nello stile di vita come una diminuzione dell'attività fisica o modifiche alimentari che possono contribuire all'aumento del grasso addominale. Fattori genetici Alcune donne possono essere geneticamente predisposte ad aumentare il grasso nella regione addominale e durante la menopausa. E' importante sottolineare che la menopausa non è a causa diretta dell'aumento del grasso addominale ma piuttosto un fattore che può influenzare il metabolismo e i cambiamenti nel corpo che a loro volta quindi possono portare ad un aumento del grasso addominale nella pancia quindi nei fianchi e possibilmente come abbiamo detto nelle cosce e nei glutei. Induzione dell'appetito e del consumo alimentare Il cortisolo può aumentare l'appetito e il consumo alimentare specialmente per cibi ad alto contenuto calorico e ricchi di zuccheri e grassi percepito come cibi di conforto che di solito si tendono a preferire quando si è stressati. L'infimo disturbo alimentare incontrollato dall'inglese binge eating disorder Questo comportamento alimentare contribuisce quindi ovviamente all'aumento del grasso addominale. Come si può mantenere un equilibrio di cortisolo ottimale? Cosa può aiutare a mantenere un equilibrio di cortisolo ottimale? Uno stile di vita sano Evitare le carenze di nutrienti Una sana e controllata alimentazione quindi Limitare assolutamente l'alcol Smettere di fumare Assicurarsi di ottenere abbastanza sonno di qualità ogni notte Evitare la sedentarietà Muoversi di più facendo possibilmente dell'esercizio fisico Evitare gli steroidi anabolizzati Prestare attenzione ad alcuni farmaci come i beta bloccanti E i diuretici e altri che possono influenzare Non solo i livelli di testosterone ed estrogeni Ma anche di cortisolo nel corpo Perciò consulta sempre il tuo medico Prima di assumere qualsiasi farmaco Controlla il video parte 1 Che apparirà qui sopra fra pochi secondi Che ti spiegherà esattamente da dove cominciare Se l'hai già visto dai un'occhiata al video parte 2 qui sopra Che apparirà fra pochi secondi Altrettanto cruciale che spiega il coinvolgimento Dell'ormone del testosterone e dell'estrogeno Nel contribuire anch'essi ad accumulare quindi O ridurre il grasso addominale Iscriviti, condividi l'informazione Se i video ti saranno piaciuti Metti un pollice all'insù E se ti va lascia un commento Lo apprezzerò senz'altro E farò del mio meglio Per risponderti il prima possibile Per risponderti il comple就llo